Gli zucchini a funghetto Salve amici, oggi vedremo la ricetta di un contorno leggero, gustoso e molto semplice e veloce da prepararsi. Scaldiamo un po' d'olio in un padellino e facciamolo insaporire con uno spicchio d'aglio. Affettiamo a rondelle sottili gli zucchini, quelli di tipo verde chiaro. Mettiamoli nel padellino e lasciamoli cuocere 8-10 minuti. Se li preferiamo più morbidi, cuociamoli col coperchio. Saliamo 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 un pizzico di origano e togliamo l'aglio. Si servono tiepidi, di contorno agli arrosti o ai bolliti e si accompagnano bene anche con il pesce.